Ciao a tutti, ci siamo appena esibiti, è stata una grande emozione come sempre cantare all'arena, poi insieme a tutti questi, tutti amici, tutti artisti, poi cantare due brani del nostro repertorio come L'amore si muove e Grande Amore, è comunque sempre bello. Voi avete qualcosa da dire? Sì, è una cosa importantissima da dirvi, questa estate faremo altri cinque concerti in Italia, tra cui uno, l'ultimo, chiuderemo a Taormina, Teatro Greco, il 28 di luglio, non mancate. Tu che cosa vuoi dire? È sempre bello raccontare le nostre emozioni qui su TV Sorrisi e Canzoni.